Angelino Alfano dice che la legge di stabilità non è il quinto Vangelo e c'è spazio per le modifiche nell'interparlamentare. Parole sante, perché questa legge di stabilità, come avete notato, non piace a nessuno, cioè tranne i membri del governo. La CGL, CISL e Will, che proclamano lo sciopero di proteste, secondo me fanno male, non risolverà nulla uno sciopero di quattro ore. È simbolico, è un preso in giro, però vostra frustrazione. Mentre il presidente da Confindustria, Quincy, usa un linguaggio, diciamo, robusto, un po' particolare, quando dice che mi auguro che non vengano fuori nuove porcate e porcarie nell'interparlamentare. Io userei un linguaggio un po' diverso. Io direi che questa legge di stabilità deve certamente evitare di essere ancora più deluito, perché in questo momento è molto neutrale, è una legge di poche iniziative, ma si può anche essere più coraggioso stando all'interno dei criteri di Maastricht, all'interno del rapporto deficit-pill del 3%, come fare con tagli della spesa pubblica più incisiva, più grande. Cioè io non toccherei la sanità o la scuola, io andrei subito a vedere se ci sono tagli da fare nelle spese militare, perché l'Italia non è che ha bisogno di una grandissima spesa militare. E lì taglierei, è su una spesa pubblica di 850 miliardi di euro all'anno, trovare dei tagli di 2 o 3%, perché ricordiamo che 2 o 3% significa circa 20 miliardi di euro, che è il doppio di questa manovra, non è così difficile, ci vuole la volontà politica. Poi non so se all'interno del governo delle larghe intese ci sono così tanti conflitti che non vediamo che bloccano questo o meno, ma il governo di larghe intese, voluto dal capo dello Stato, è qui per agganciare questa ripresa debole, per promuovere la crescita e l'occupazione. La crescita di 1% nel 2014 non crea nuovi posti di lavoro, quindi ci vuole di più. Speriamo in bene, anche se siamo tutti un po' scettici, speriamo in bene.